benvenuti in questo nuovo video oggi mi trovo a rimini siamo a rimini perché volevamo vedere il mare perché appunto san marino ormai l'abbiamo visto tutto appunto staremo qua il pomeriggio sono le quattro poi stasera andiamo a mirano marittima in un ristorante abbastanza conosciuto dove mangeremo piadine cose tipiche della riviera romagnola e poi domani si parte per la toscana per la toscana Grazie a tutti. Ok ragazzi siamo andati via da Rimini e ora siamo a Milano Marittima alla Casa delle Aie. Ok timelapse fatto ma vedo già coda ragazzi questa cosa non va bene. Ok. 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 Finito di mangiare? Vi direi che adesso è il momento di tornare a San Marino e domani sarà un'altra lunga giornata quindi finisce qua il video. Ci vediamo settimana prossima come al solito domenica alle 11 per l'ultimo video riguardo a questa serie e... Finite. Ciao. 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 Ciao.